Noi diciamo che non fanno lo schermo, ho scelto le foto di 425, vi ringrazio tuttissimo, è un periodo bellissimo, ma come dire, il più viene il periodo più vale la mia vita. Allora, io sto prendendo dimestichezza con queste nuove tecnologie Samsung con le star della serata, ecco, poi mi fanno tutti i miei commenti e vi dirò che ne penso. Tanto, insomma, vedrete che ho molta e tanta dimestichezza già in questi primi rumori di uso perché la nuova generazione di prodotti Samsung dopo il lancio di Berlino, dopo aver fatto tanto parlare di sé, oggi, in Italia, e stasera noi ne parleremo e ve ne presenteremo, ce ne presenteremo perché ne scopriamo insieme naturalmente, sarà una serata densa di contenuti all'insegna della creatività, la creatività che Samsung cerca e riesce a mettere in tutti i suoi prodotti, in questa nuova generazione di prodotti in particolare, avete visto anche nel titolo che vi ha fatto un interesse, non di più, quindi la voglia di una nuova strada che mette però, come sempre, il consumatore nuovo al centro dell'interesse e del modo di usare, di usare, di usare, delle nuove tecnologie e di usare, di usare, delle nuove tecnologie e delle nuove tecnologie e, in questo caso, la mano dell'uomo, come vedremo, e allora io propongo un ulteriore spazio perché, insomma, non tante cose per raccontarci, stasera. Naturalmente, siamo innanzitutto dal saluto del padrone di casa, il presidente di Samsung Italia, Sun One New, Buonasera, signore e signori. Grazie a tutti per essere qui stasera per assistere alla presentazione di nuovi prodotti Samsung con 400 milioni di dispositivi mobili che vendremo nel 2012, Samsung C conferma video di mercato nella telefonia mobile e nelle smartphone a livello mondiale. Numere che si riflettono anche in Italia si hanno video nel mercato, nella telefonia mobile e nel segmento smartphone sia a volumi sia a valori. Il nostro prossimo obiettivo è di raggiungere la widoccia anche nel mercato di Apple. Tale successo della telefonia mobile ha contribuito a vendere il nostro brand sempre più conosciuto e amato da tutti i consumatori. È notizia di oggi, infatti, che Samsung è passato dalla dici settesima alla nona posizione della plastica Global S-Brand 2012 di Internet. Lo scorso anno abbiamo creato una nuova categoria di prodotti del mercato nella telefonia mobile con Samsung Galaxy Note. Un dispositivo apprezzato da tutti i consumatori a livello mondiale come possono testimoniare i 10 milioni di Galaxy Note venduti in nove mesi. oggi, ampliando la famiglia di prodotti e presentiamo Samsung Galaxy Note 2 e Galaxy Note 2 10.1 due immobili dispositivi che confermano la nostra agenda alla cuida dell'innovazione del mercato della telefonia mobile. Galaxy Note 2 e Galaxy Note 2 10.1 sono studiati per i consumatori che desiderano dare libera espressione alla propria creatività grazie a una straordinaria esperienza di uso e a funzioni uniche. Grazie ai nuovi Galaxy Note unici nel loro genere tutti i consumatori potranno gestire in modo più efficiente la propria vita lavorativa e personale. vi ringrazio di nuovo per essere qui e vi auguro buona miserata. Grazie.